bene amici volevo farvi vedere una cosina particolare a proposito di questa questo territorio del fiume di ticino che è la cosiddetta ansa di castelnovate possiamo fare un viaggio indietro nel tempo con un'operazione particolare utilizzando questo tipo di strumento vedete qua sopra c'è una piccola clessidra un piccolo orologio mostra immagine storiche usa il distributivo di scorrimento temporale per sostarsi tra le diverse dati di acquisizione e questo cursore vi mostra gli anni in cui sono state sviluppate stampate e realizzate queste immagini e adesso stiamo andando indietro nel tempo siamo nel 2017 2016 2015 parte della foto è stata realizzata altra parte no parte del territorio è stato coperto qua siamo nel 2014 andando indietro indietro si arriva in un periodo molto particolare questo è un momento con la piena con l'acqua molto molto alta ecco ancora adesso andiamo questo momento un po particolare stiamo andando indietro nel 2012 c'è una secca molto importante questa è tutta l'asta di castelnovate importante per la ricerca dell'oro alluvionale nel territorio del ticino ecco volevo farvi vedere già che siamo in un momento in cui la vegetazione molto scarsa andiamo a osservare questo territorio qua sopra questa zona qua queste sono le aurifodine cosiddette del campo dei fiori che non c'entra col campo dei fiori del sacromonte questa è una diga in terra che viene realizzata per deviare l'acqua verso la roggia di oligio e questo è un laghetto di pesca sportiva pensate che nella cava di questo laghetto quando era attiva era la zona di ticino dove venivano raccolte le più grosse pepite del ticino vecchi cercatori me lo raccontavano quando andavano a tirare su l'oro in quelle cave andiamo indietro ancora nel tempo siamo nel 2012 torna un periodo sempre di collacco molto bassa però l'interessante ecco questo dopo la piena del 2010 l'interessante andare 2003 e 2002 soprattutto guardate dopo la piena storica nel 2000 come era ridotto le boscaglie del territorio dell'area del parco del ticino nelle anse di castelnovate qui stavano costruendo stavano costruendo tutta questa prismata qua perché qua aveva mangiato e consumato tutto l'argine del fiume ha fatto una bella devastazione ecco osservando questa migrazione questa modifica del territorio è possibile interpretare cercare di capire dove poter andare a fare delle ricerche mirate magari andando a raccogliere del vecchio tipo del materiale di vecchia data insomma e spero che vi sia utile questa funzione scala nel tempo buona ricerca